Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Taylor Mega ha rivelato dettagli inediti sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni durante un'intervista con Le Iene. L'influencer ha dichiarato che Fedez non ha mai tradito la Ferragni e ha spiegato che si trattava di una coppia aperta, senza esclusività. Ha anche svelato che il rapporto con il rapper era più fisico che emotivo. Durante l'intervista Taylor Mega ha parlato del dissing tra Fedez e Tony F., ex fidanzato della Mega, e ha sottolineato che il rapper sapeva che lei doveva togliersi qualche sassolino. Ha chiarito che non si sente responsabile di aver rovinato una coppia, poiché entrambi erano consapevoli della situazione. L'influencer ha criticato Chiara Ferragni per la sua mancanza di coerenza e ha affermato che molte persone sui social non si mostrano per quello che sono veramente. Ha anche rivelato che non ha intenzione di mettere fine alla guerra tra lei e la coppia, poiché ritiene che tra Fedez e la Ferragni le cose si sistemeranno, ma non per lei. Taylor Mega ha descritto la sua relazione con Fedez come passionale e ha sottolineato che molte persone credono solo a ciò che vogliono credere. Ha criticato il comportamento del rapper quando si tratta di business e ha affermato che non si può agire in determinati modi quando si diventa un business ambulante. L'intervista completa andrà in onda stasera su Italia 1 durante il programma Le Iene dove verranno approfonditi ulteriori dettagli sulla relazione tra Fedez e la Ferragni.